Non soltanto Alvarez ma c'è anche l'idea Silvestri, l'argentino del Catania se Lucio va al Chelsea potrebbe andare all'Inter, il centrale candidato a sostituire il brasiliano che chiede due anni di contratto, il procuratore di Tiago Motta dice dopo l'Inter Roma prima scelta ma andiamo all'interno dell'articolo, perché? Perché un po' bomber lo descrivono, lo dicono anche i numeri, l'Inter l'ha tenuto d'occhio per tutto il campionato, è stato decisivo nella salvezza del Catania segnando al Brescia tre giornate alla fine e in altre cinque occasioni, sei reti in totale e poi ci sono le dichiarazioni di Pietro Lomonaco a Radio Kiss Kiss e che non ridetto, questa mattina siamo così, perché abbiamo tanta stima anche di Pietro Lomonaco che ha detto ci sono due club italiani, due stranieri su di lui, siamo a buon punto con una di queste, insomma, intanto poi c'è anche un accordo, il mercato del vestiario, perché l'Inter vestirà Versace e a proposito di Inter si parla, guardate quanti nomi, Vucinic, affari spenti, il romanista piace, sono elementi di scambio, resta aperta anche, come chi mi chiedevi tu, la pista a Palacio Cristiana, Alvarez se Moratti fosse pronto a versare i 15 milioni potrebbe prenderlo, l'Arsenal è ferma a 10, poi Viviano, Santon, Pande, Vettiago Motta sarebbero gli uomini giusti per far ingolosire, Sabadini è pronti a chiudere l'affare, dunque queste le notizie e poi chiudiamo con altre notizie che riguardano l'Inter, le chiudiamo con un altro...